Dopo tre pernottamenti in una struttura ricettiva di Santa Severa e Santa Marinella, la quarta notte è a spese del comune. Il consigliere Pierluigi D'Emilio sta lavorando a questa iniziativa con l'obiettivo di promuovere le attività ricettive e far ripartire l'economia locale. Il pacchetto turistico potrebbe essere concordato con gli operatori del settore e poi avviato a partire dalla prossima primavera. Questo periodo buio dovrà pur finire, ha dichiarato D'Emilio. Una cosa è certa, al momento della ripartenza solo chi sarà pronto avrà qualche possibilità in più di attrarre i turisti e far rinascere le attività del territorio. È per questo motivo che stiamo sfruttando questa sorta di parziale lockdown per preparare tutte le strategie che potranno essere attuate, ha concluso. Intanto, l'amministrazione ha vinto un bando per rinnovare la segnaletica turistica. Nello specifico, Santa Marinella ha ottenuto un finanziamento di 36.000 euro con il quale si potrà modernare la cartellonistica.